Un distretto sanitario già vecchio, quello di Via di Vittorio a Monte Silvano, così lo ha definito il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Una struttura attesa per oltre 20 anni, inaugurata in Pompamagna ad aprile del 2019. Da due anni il distretto sanitario di base è entrato a pieno regime, stando a ciò che è stato comunicato a suo tempo dall'ASL di Pescara, quando l'ente annunciò il trasferimento degli ambulatori dalla vecchia struttura fatiscente di Corso Umberto alla Nuova. Partiamo subito dal parcheggio, che nei giorni feriali è pienissimo, purtroppo il personale non trova posto e si deve trovare una soluzione. Mancano i cestini, è assurdo, ma è così, e c'è in Montizia gettato dappertutto. Entriamo nel consultorio, abbiamo trovato qualche giorno fa, quando siamo arrivati, il lavandino del bagno che era stato asportato e non più rimesso. Vediamo che questa mattina almeno il lavandino a seguito alla nostra ispezione è stato ripristinato, ma non solo. C'è un'escursione termica di almeno 6 gradi dal corridoio agli ambulatori, quindi il sistema di riscaldamento non funziona. Mancherebbe un altro psicologo a regime nel consultorio, il ginecologo, almeno 7 giorni a settimana e purtroppo viene solo 7 giorni. E negli ambulatori la situazione, così come la definisce Pettinari, pare raccapricciante. Il laboratorio oculistica, il riunito e il macchinario per misurare la vista è di obsoleto, di oltre 25 anni, è pazzesco, è così non può andare bene, non può funzionare. La sedia dell'oculista non è adeguata, non è a norma. Dove si svolgono le ecografie? Urologo e cardiologo, le tende non sono coprendi e sono stati costretti a mettere delle toppe alle finestre. Cosa bruttissima, il dentista manca il materiale di consumo, manca il materiale per fare le otturazioni, voi potete immaginare. Questo e tante altre criticità, noi abbiamo segnalato la sala CUP, sono file pazzesche, le stanze piccolissime dove non si può lavorare, bisognerebbe installare e istituire una macchina per il pagamento automatico del ticket, per l'esenzione del ticket, non c'è. Noi facciamo un appello forte alla regione, la regione non può pensare a costruire nuovi ospedali di comunità se non fa funzionare quelli che ci sono. Eppure a fronte di proteste qualcosa è stato fatto, dice il consigliere comunale Marco Bucci. Siamo riusciti a far togliere il generatore di corrente del gruppo di continuità che stazionava dal giorno dell'apertura davanti al piazzale retrostante. Purtroppo notiamo però che è stato spostato solo di posizione perché è messo davanti ai quadri elettrici ma non è stato collegato. Ora la domanda che mi faccio e la rivolgo anche alla direzione sanitaria e a chi di competenza. È giustificata la spesa di questo generatore visto l'inutilizzo in tutti questi anni? Grazie. Grazie.